Salve a tutti da Willis Spluvete andremo a effettuare la prima manche di una gara in Norvegia se non ricordo male quindi prepariamoci è la prima di sei manche adesso vi lascio alla gara ciao a tutti ok devi effettuare un giro giochere extra per aver anticipato la partenza a l'auto dietro di testo rallentato sono in piccola all'auto dietro di testo all'auto dietro di testo all'auto dietro di testo Grazie a tutti. Grazie a tutti.